Una bottiglina qua, una bottiglina, si è venduto? Il locale che Pompic ci ha accesso all'uso per memorizzare i suoi lavori. Per il frattempo il famoso almanino che preparava il libro di Maurio, il nostro canale, con la capacità diversifera, non sembra tutto qui, sembra semplice, però la tecnologia ha fatto un'attività di nota di non avere questa potenza di campo e di capacità di memoria, siccome erano locali, capazzoni, avremmeno, come vedete è tutto centrato in uno spazio. Per questo è un'attività, per uscire e per entrare.